perfetto allora noi partiamo da l'introduzione di un amplificatore ok noi adesso cerchiamo di appoggiarci ai concetti che conoscete dalla tira di circuiti e introduciamo dei sistemi attivi prima di tutto poi inseriremo anche dei sistemi non lineari allora dunque che cos'è un amplificatore è un sistema lineare a due porte che fornisce in uscita un segnale ecco attenti a questo punto di potenza maggiore questo aspetto è importante del segnale di ingresso ma per questo motivo lo chiamiamo amplificatore ok perché la potenza deve essere maggiore dunque quindi sistema lineare a due porte voi in due porte l'avete visto com'è che lo descrivo descrivo genericamente in questo modo ne avrò una porta di ingresso con corrente ii attenzione vi tra questi due nodi una porta di uscita tra cui c'è la tensione vo e la corrente io e a questo punto all'ingresso applico un generatore per esempio di tensione e l'uscita la metto su un carico e questo è un discorso di tutto generale del tutto indipendente io posso definire la potenza del segnale di ingresso che è la potenza entrante nella porta di ingresso e questa la chiamo pi che è vi per i con i d'accordo e poi definisco la potenza del segnale di uscita ok alla porta di uscita potenza del segnale di uscita per me la potenza del segnale di uscita è la potenza erogata dalla porta di uscita quindi è po è uguale a meno vo per i o ok qui ci vuole il meno perché con questi segni se avessi messo il più avrei la potenza entrante in uscita questa potenza di segnale di uscita cioè la potenza erogata dalla porta di uscita è uguale alla potenza assorbita dal carico posto in uscita bene quindi questa qui è la potenza fatemelo scrivere questa è la potenza erogata dalla porta di uscita che è uguale alla potenza assorbita potenza dal carico posto in uscita questa potenza del segnale ingresso è la potenza giusto per completare potenza assorbita dalla porta di ingresso che coincide con la potenza erogata dal generatore di ingresso giusto per chiarire tutto allora il sistema è lineare quindi se è l'uscita è ovviamente proporzionale se è ingresso ma la condizione che deve essere soddisfatta è che questa PO deve essere maggiore della PI e dovrebbe essere entrambi maggiore di 0 questa condizione deve essere verificata ok? questa dobbiamo tenerla presente allora come si descrive un sistema lineare con due porte? in realtà lo posso descrivere quindi amplificatore e sistema lineare due porte come descrivo un sistema lineare due porte? io qui non vi dico una cosa nuova ma giusto prendiamola come un ripasso un sistema lineare a due porte lo posso descrivere con un con un sistema lineare due per due e che cosa devo fare? lo disegno un attimo qua devo dire che due grandezze sono indipendenti e due grandezze sono dipendenti però è completamente arbitrario arbitraria la scelta io decido che due sono dipendenti e le scrivo in funzione degli altri due per esempio posso decidere che le grandezze indipendenti sono ii cioè la corrente di ingresso e la tensione di uscita a questo punto deciderò che queste altre due grandezze le altre due tensione di ingresso e corrente di uscita sono dipendenti allora ripeto questo è totalmente arbitrario questa scelta è una scelta classica ma non è l'unica possibile grandezze indipendenti e come sapete uno si può un po' può giocare un po' quello che vuole nel senso uno può dire un attimo due in funzione delle altre due e da una descrizione all'altra passo rapidamente se inverto una matrice quelle che sono dipendenti diventeranno indipendenti e viceversa quindi per esempio è un sistema lineare posso fare quello che voglio se rappresento le cose in questo modo chiaramente qui dentro ho una matrice lineare due per due e ho bisogno di quattro parametri se faccio questa scelta mi viene fuori quello che si chiama un modello a parametri ibridi perché? perché gli elementi della matrice dimensionalmente non sono tutti uguali ok? non hanno tutte la stessa unità di misura per esempio qui questo parametro qui lega vi a ii e lo chiamo hi e dimensionalmente sarà una resistenza vedete perché perché h per i hi per i con i fa v con i quindi i con i deve essere una resistenza e questo qui invece descriviamoli tutti uno alla volta hi che cos'è? hi e e beh quando v o è uguale a 0 è il rapporto v su ii quindi è una posso anche definirlo in questo modo come il rapporto tra v i e ii quando v o è uguale a 0 vedete quindi dimensionalmente è un'impedenza ed è l'impedenza della porta d'ingresso d'accordo? per esempio l'impedenza della porta d'ingresso calcolate in un caso particolare cioè quando la tensione di uscita è nulla va bene? quindi questa qui è questo parametro si chiama impedenza di ingresso chiaramente la comunità di misura ohm questa i che si usa sta per input come il pedici perché è riferita alla porta d'ingresso ok? allora analogamente io se vado sull'altra diagonale posso prendere questo questo parametro qui lo chiamo HO perché mi mette in collegamento due grandezze di uscita e si vede abbastanza bene cos'è HO HO è può essere una definizione io ho su vo quando i con i è uguale a 0 vedete? quindi è dimensionalmente stavolta un'ammettenza relativa solo alla porta d'uscita e questa la chiamerò ammettenza d'uscita chiaramente le unità di misura saranno O alla meno 1 e qui la O che si usa come pedice sta per output va bene forse mi stanno tutti nella stessa riga posso completare ho altri due termini un termine prendiamo questo qua e questo è un termine che mi lega la corrente di ingresso alla corrente di uscita mi dice come la corrente di uscita dipende dalla corrente di ingresso quindi lo chiamo HF è IO su II quando quando V è uguale a 0 ok quindi questo è dimensionalmente è un numero puro è adimensionale ed è una questa la chiamerò amplificazione di corrente o guadagno diretto di corrente guadagno diretto diretto perché mi serve per distinguerlo da inverso diretto perché è l'uscita in funzione dell'ingresso di corrente ed è dimensionalmente un numero puro metto scrivo 1 per dire che è adimensionale e questa F che si usa come pedice sta per forward che vuol dire diretto in sostanza in inglese ok ovviamente questo per essere precisi c'è sempre una condizione no che è quella scritta in basso per essere precisi questo è guadagno diretto di corrente con uscita in cortocircuito perché V uguale a 0 vuol dire chiuso l'uscita in cortocircuito ok quindi questa me la devo tenere a mente ma c'è sempre una condizione no vedete e per finire ho l'ultimo termine che invece è un termine inverso in inglese si direbbe reverse perché termine inverso perché mi lega la tensione d'ingresso come variabile dipendente in funzione quindi della tensione d'uscita perché questo HR è I su VO quando e con I è uguale a 0 quindi vedete questo è il guadagno inverso di tensione anche questo è un numero puro questa R questa è un R minuscolo sta per reverse ok quindi sono quattro grandezze quattro parametri di dimensioni diverse in generale vedete o o a meno 1 o a dimensionali e questo si chiama modello a parametri H o modello a parametri ibridi quindi questo è il modello a parametri ibridi ibridi in inglese hybrid per quello si dice a parametri H ok va bene o cosa giusto tanto per riassumere questa non è la prima volta che lo vedete però per riassumere chiaramente una volta che ho scritto questo sistema il sistema innanzitutto non è l'unico io posso decidere completamente in modo arbitrario quindi a piacere quali sono indipendenti e quali sono indipendenti e da una descrizione vado all'altra semplicemente riorganizzando il sistema può essere un esercizio facile come si passa da una io potrei mettere per esempio tutte le intenzioni come grandezze indipendenti le correnti come dipendenti tutti i coefficienti a quel punto mi verrebbero uguali sarebbero tutti delle ammettenze e avrei il cosiddetto modello a parametri y e ci sono però dall'una all'altra è facile è facile risalire perché devo semplicemente prendere il sistema e riscriverlo in modo diverso rimaniamo affezionati a questo perché vedrete poi alla fine quello che nel nostro contesto usiamo un po' più spesso quello che volevo farvi notare è che ad ogni modello corrisponde uno a uno un circuito perché sapete un circuito elettrico non è nient'altro che la rappresentazione del sistema di equazioni in modo grafico quindi è evidente non ne ho detto niente di nuovo se io prendo un sistema io posso sempre prendere un sistema trasformarlo in un circuito equivalente cioè che ha lo stesso significato del sistema in questo caso com'è che faccio? beh mi conviene prendere il sistema è prima scrivervelo per esteso vedete qui cosa posso scrivere V è uguale a HI per iconi più HR per V con O e qui posso scrivere icono uguale a HF per iconi più HO per V con O una volta scritto così io posso disegnare il circuito equivalente perché banalmente prima equazione la tensione è una somma di due termini sono due termini che si sommano in un circuito cioè sono due tensioni che si sommano ciascun termine è una tensione in un circuito di questo tipo vuol dire che ho una serie due elementi in serie quindi cosa vuol dire? vuol dire che sono messo così questo è VI ho una resistenza di valore HI in cui passano correnti iconi e questo è il primo termine HI per iconi e poi ho una tensione che dipende da V HR V con O posso esprimere come un generatore di tensione dipendente della tensione V con O quindi questo pezzettino di circuito rappresenta la prima equazione del sistema la seconda equazione del sistema invece è diversa perché ho la corrente che è uguale alla somma di due termini quindi due contributi di corrente che si sommano vuol dire due rami in parallelo quindi vuol dire che alla porta d'uscita io avrò una situazione del genere questa è la porta d'uscita questa è la tensione di uscita questa è la corrente della porta d'uscita la corrente io è fatta dalla somma di due termini un termine HF per iconi e quindi è un generatore di corrente che dipende dalla corrente iconi e poi un altro termine HO V con O che vuol dire siccome V con O è anche la tensione a capi la porta una resistenza di valore 1 su HO in cui passa chiaramente una corrente che ha HO per V quindi questo secondo ramo mi risponde alla seconda equazione del sistema per cui questo è il circuito equivalente ok ripeto questo non aggiunge niente al sistema che ho scritto prima è esattamente la stessa cosa chiaramente detta in modo grafico ok va bene ora questo è un breve riassunto di un sistema lineare due porte torniamo un attimo indietro al concetto di amplificatore nel concetto di amplificatore c'è una cosa in più cioè è un sistema lineare due porte in cui però la potenza erogata in uscita è maggiore della potenza assorbita dalla porta di ingresso ok questo è un aspetto importante ora che vuol dire facciamo un attimo un bilancio potenza che voi sapete che la potenza l'energia non si crea non si distrugge quindi se la potenza in uscita è più grande della potenza in ingresso vuol dire che da qualche parte arriva potenza allora vediamo da che parte arriva se io prendo il due porte allora questa sarà vuoi questa sarà vuo i e allora noi che cosa abbiamo detto che qui c'è la potenza di ingresso e qui c'è la potenza di uscita sappiamo che più è più grande di ok che altre potenze ci sono c'è questo aspetto sicuramente qualcosa mi deve dare della potenza aggiuntiva diciamo che chiamiamo pe questa potenza questa potenza è la potenza erogata dall'alimentatore qui deve avere un alimentatore può essere una batteria dall'alimentazione cioè può essere un un si un alimentatore mi deve dare questa potenza in più perché io di sicuro altrimenti non sarei in grado di erogare una potenza più o maggiore di pi da differenza qualcuno me la deve dare ok chiaro questo discorso ok poi c'è un altro termine questo oggetto il mio amplificatore è ragionevole che dissipi potenza a sua volta cioè che trasformi della potenza in calore e quindi riscaldi l'ambiente esterno e questa potrà essere questa la chiamerò PD questa è una potenza dissipata in calore questo ci sarà si per esempio una resistenza almeno una resistenza all'amplificatore che la resistenza chiaramente trasforma la potenza in calore ok quindi il bilancio di potenza che deve valere nel tempo in modo stazionario durante il funzionamento è che chiaramente la potenza entrante è la potenza uscente che a regime non è che assorbe potenza l'oggetto quindi cosa deve essere che questo la potenza entrante deve essere uguale alla potenza uscente quindi questa cosa deve sempre valere quindi se voglio PO maggiore di PI come voglio devo avere per forza questa è una potenza fornita dall'alimentazione ok questo è punto importante da tenere presente va bene ok c'è un altro punto che in realtà è una semplificazione che è importante considerare perché vedrete l'approssimazione che noi adotteremo sempre po' per comodità di calcolo è quello di considerare di avere un amplificatore unidirezionale questa è un'approssimazione e cosa vuol dire che è un'approssimazione vuol dire che non esiste un amplificatore unidirezionale non è che è veramente così che però è un'approssimazione che ci fa comodo avere che cosa vuol dire amplificatore unidirezionale e vuol dire che la che HR è uguale a 0 allora torniamo un secondo indietro vedete qua in pratica HR mi diceva come l'ingresso dipende dall'uscita io quando faccio un amplificatore vorrei che l'uscita fosse funzione dell'ingresso ma non voglio che l'ingresso funzioni dall'uscita di solito è sempre una cosa indesiderata poi succede c'è ma non è una cosa che è intenzionalmente voluta quindi tipicamente cercherò di fare un amplificatore in cui l'ingresso dipende sempre il meno possibile dall'uscita o per comodità supponiamo che sia vero sempre perché vedete ci semplifica molto i conti e non è vero in modo assoluto ma insomma è ragionevolmente vero allora perché ci semplifica molto i conti e vediamo che tipo di rappresentazione possiamo fare perché invece di avere quattro parametri ovviamente ne abbiamo soltanto tre e possiamo scrivere pochi parametri in modo anche leggermente diverso vediamo di farlo un attimo insieme circuito equivalente quindi diventa questo diventa questo qui ho soltanto HI in ingresso e in uscita ho le due cose quindi HF con I e HO va bene questo è il circuito equivalente e quindi a questo punto con questa approssimazione questa qui è un'impedenza di ingresso praticamente impedenza con la M impedenza di ingresso ho soltanto l'impedenza in ingresso e in uscita ho una rappresentazione con un equivalente di Norton che è un generatore di Norton vedete un generatore di corrente con una resistenza parallela allora questo qua lo spesso lo descrivo in questo di modo lo trovo descritto in un modo leggermente diverso ma che è esattamente coincidente ve lo faccio vedere una volta all'inizio così poi tutte le volte che lo incontriamo non vi lascia sorpreso cioè una distinzione è questa qui quella è dire beh io allora lo faccio così e poi questa qui la chiamo Gm V e questa qui la chiamo Ro questa è un'altra descrizione che si trova vedete che in sostanza è la stessa cosa di prima questa e questa è la stessa cosa cos'è che cambia va abbastanza poco cambia che qua alcuni la Ri e la Ro chiamo Ri e Ro resistenza di uscita resistenza ingresso invece di HI e HO questo sarebbe uno su HO quindi Ri in questo caso è HI e Ro è uno su HO va bene e poi però c'è un'altra cosa questo generatore di ingresso è in generatore corrente in uscita invece di essere HF per iconi lo scrivo Gm per V quindi vedete dipende da una grandezza diversa però notate bene che dico che Gm per V voglio fare in modo che voglio scegliere un Gm tale che Gm per V sia uguale ad HF per iconi vedete banalmente basta fare così perché basta scrivere Gm uguale ad HF per iconi diviso V con I ma iconi diviso V con I è Ri perché iconi è questa quindi è HF diviso Ri che è uguale ad HF diviso HI quindi se conosco i parametri H trovo anche il Gm ok aspettate tutto questo lo scrivo meglio così ok quindi e questo è un tipo di descrizione che si trova molto frequentemente per un amplificatore un'altra descrizione che trovo per un amplificatore è invece quella in cui invece di avere l'equivalente di Tevenin ho una trasformazione di Norton in uscita e una trasformazione in Norton Tevenin e quindi in pratica l'ingresso è fatto nello stesso modo però l'uscita la faccio così metto qua un generatore e qua metto un generatore di tensione come GmV con I è proporzionale a V con I è proporzionale a V vedete nella trasformazione com'è che si fa a trasformare Tevenin in Norton deve essere così Av per Vi deve essere uguale al prodotto del generatore di tensione per la resistenza quindi in sostanza Av deve essere uguale a Gm per Ro che è uguale se vi ricordate Gm è Hf diviso H con I Ro è uno su H o quindi in termini di parametri H lo posso scrivere come Hf diviso H i per H o ok va bene quindi in pratica io un amplificatore unidirezionale ho detto ho scritto unidirezionale un amplificatore unidirezionale lo posso rappresentare in questi modi equivalenti va bene poi potrei anche indicare il termine HR perché poi alla fine è un termine che va in parallelo all'imperenza ingresso però diciamo quella spessa è un'approssimazione che si fa e che mi semplifica notevolmente la rappresentazione del circuito ok ora quindi tutte le volte che io riesco a schematizzare un circuito come un'imperenza ingresso e poi in uscita un equivalente Norton o un equivalente Tevenin che dipende dalla tensione sulla porta di ingresso io ho fatto un amplificatore io ho un amplificatore questo mi servirà più avanti perché poi vedrete che quando vedremo come funziona il transistor un transistor effettivamente è un circuito si può descrivere in questo modo e per cui è perfetto per fare un amplificatore quindi io ho bisogno ed è relativamente indifferente se la corrente di uscita mi dipende o la tensione di uscita mi dipende dalla tensione di ingresso o della corrente di ingresso tanto essendo il circuito lineare posso ricorrere a un sistema o un altro in modo più o meno indipendente ok va bene io direi che mi posso fermare che ho detto mi sarei fermato a quest'ora ok 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 ok